Inter travolgente finora in casa con la Fiorentina, tre gol e con la SPAL due gol. Inter Genoa, Fabrizio Biasin, Inter favoritissima 1-25, partita facile? Facile no, perché comunque anche con la SPAL ricordiamo che l'Inter ci ha messo un po' prima di portarla a casa definitivamente, per cui mi immagino comunque una partita combattuta, ma una partita dove l'Inter non solo può, ma deve portare a casa il progetto. Senti, l'Inter segna abbastanza con regolarità, il Genoa segna ma subisce anche tanti gol, partita più da over rispetto all'Under, sei d'accordo? Mi stupirò, io vado sull'Under, secondo me non ci saranno tantissimi gol, è vero che giochi in casa contro una squadra non fortissima, ma io mi immagino pochi gol. Perfetto, amici di Univet avete sentito le pronostiche di Fabrizio Biasin, vittoria dell'Inter, ma con pochi gol, quindi Under preferito all'Under.